La Toscana si sa è terra di campanili, ma in un periodo di incertezza e di grandi speculazioni sui mercati, avere le spalle larghe e fare economia di scala diventa quanto mai strategico. Questa logica vale soprattutto per i servizi ed anima le scelte commerciali sia di privati che di grandi enti pubblici. In questo senso, domani partirà la prima fase del progetto Multi Utility, che trae insieme inizialmente la gestione dei rifiuti dell'intera Toscana centrale, per poi allargarsi al resto della regione e infine quotarsi in borsa. Tra le realtà che guardano con interesse al progetto e che potrebbero un domani essere incluse nel processo, c'è anche Estra, società a capitale pubblico nata proprio dalla fusione di altre tre Multi Utility, Consiag, Intesa e Coingas. Intanto, il gruppo nato nel 2009 continua a crescere. In queste ore la notizia dell'acquisizione del 100% di Bisenzio Ambiente SRL, società attiva nella gestione dei rifiuti speciali. Le quote della società andranno per il 75% Estra e per il 25% al suo socio Consiag. Bisenzio Ambiente è proprietario di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, situato nel comune di Campi Bisenzio a Firenze. Il processo di acquisizione era stato avviato a novembre 2020 con l'acquisizione del 10% della società per la crescita a tappe progressive del gruppo Estra nel settore ambientale e in particolare nella gestione dei rifiuti speciali. Questo, anche quanto dichiarato da Paolo Abati, direttore generale della società, con questa operazione ha detto ci poniamo a disposizione dei territori, sottolineando la governance pubblica del servizio, molto delicata della gestione dei rifiuti speciali. A crescere la nostra presenza in questo comparto, ha dichiarato invece Nicola Perini, amministratore unico di Consiag e presidente di Bisenzio Ambiente, significa qualificare ulteriormente il ruolo di Consiag nel territorio, elevare i parametri di efficienza e di sicurezza impiantistica, implementando i livelli di competitività del settore.